La situazione delle scuole nel comune di Casamiccio alla Terme si tiene oggi un incontro proprio al comune, ne parliamo con il primo cittadino. Di che si tratta? No, è solo per spiegare un poco tutta la vicenda. Ormai le cose si sono un po' più chiarite, diciamo stiamo a bocce ferme, quindi avevo in accordo pure con il delegato alla scuola. Allora volevamo un poco, come siamo soliti fare, l'abbiamo scritto nel programma, di spiegare un poco alla cittadinanza e quindi ai rappresentanti del genitore, rappresentanti del consiglio di istituto, tutta la vicenda come è andata. Viste e considerate sono state fatte ordinanze, poi da me poi è stata revocata. Insomma, alla fine è bene che i cittadini sappiano come ci siamo mossi e se ci sono state le responsabilità. Io come al solito non ho nessun problema a dire abbiamo sbagliato e quindi abbiamo rimediato pure. In questo caso voglio spiegare com'è la vicenda, certamente un po' di presunzo forse la devo dire, non è che ho proprio sbagliato. Brevemente, com'è questa vicenda? Ma è una vicenda che secondo me è partita male. Secondo me non ho avuto collaborazione. Cioè non è che mi è stato dato proprio una mano, ma subito si è partita all'attacco da parte di certe persone che magari cercavano in tutti i modi di volermi mettere in difficoltà, non lo so. Io così poi alla fine l'ho letta la questione, perché alla fine le carte dopo un po' di tempo mi hanno dato ragione e quindi insomma non capisco e non capivo e non capisco perché poi si è voluto fare diverse cose.